bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi tantissime novità per quello che riguarda le ultime 24 ore di fortnite parleremo dei game awards e di una possibile anzi di una certa ricompensa che potremo ottenere semplicemente guardando le premiazioni ma parliamo anche di alcuni strani suoni che si sentono nella mappa vi faccio ascoltare un bel file audio che potrebbe chiarirci un po le idee di quello che succede soprattutto relativo alle guardie quelle che escono dagli ascensori e ovviamente tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mettendo un like a questo video dai raga premete il like non siate timidi e a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta proprio di ciò che vi ho parlato qualche secondo fa le guardie le ai o guard quelle che sponano a gruppi di 2 3 direttamente da sottoterra da degli ascensori che in realtà non si capisce bene da dove arrivino innanzitutto voglio dirvi che esistono delle location prestabilite come punti di spawn delle guardie questa è una mappa che ci fa vedere appunto tutte le varie posizioni in cui è possibile incontrare queste guardie ma non è escluso che potrebbero arrivarne altre nel proseguio della season la cosa davvero curiosa è che appunto loro vengono materializzate in game da un quadrato che non è altro che un ascensore escono ti sparano ti laserano perché hanno un ibot pazzesco ma la cosa interessante è che quando riusciamo a killarli a volte nell'ascensore appaiono un paio di forzieri che si possono ovviamente aprire la cosa però veramente curiosa è proprio questo file audio che sto per farvi sentire e che ci fa capire che sotto nei piani segreti di alcune location si sentono dei rumori strani poi vi dico perché ascoltate un po grazie a tutti la cosa veramente interessante di questi file audio è che sembrano essere relativi a queste guardie e alcuni dicono che sono proprio loro stesse che stanno lavorando per creare dei condotti o dei tunnel sotterranei che colleghino tra di loro le città ovviamente staremo a vedere se questa supposizione è vera in futuro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle news un po ambigue ragazzi attenzione se per caso viaggiate in questi giorni nei vari forum dedicati a fortnite o nei video su youtube perché questo è un vero autobus di fortnite il vero autobus di fortnite l'unico tra l'altro costruito nel 2018 2019 per festeggiare un evento questo credo sia addirittura quello che poi ha portato mr beast quando è andato a trovare tfew stanno girando ragazzi dei video che dicono ritorno dell'autobus su fortnite perché in egitto come vedete hanno trovato ieri questo coso gigante parcheggiato ai bordi della strada ragazzi è semplicemente l'autobus di fortnite abbandonato quindi non è apparso assolutamente è lì da due anni forse non se ne è mai accorto nessuno forse nessuno ha ritenuto che fosse importante filmarlo ma non è a successo niente non sta apparendo nulla in nessuna parte del mondo quindi tranquilli sono tutte fake news andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi di mantenere ben stretti i vostri v bucks perché sta per arrivare una coppia di skin molto interessanti la prima ragazzi la vedete un po' coperta da me lo snowmando ma quella che ci interessa seriamente è la gingerbread renegade raider quindi la renegade in versione però natalizia che vi ricordo è già stata trovata nei file di gioco se non ricordo male addirittura prima della patch numero 15 perché è già presente dalla season precedente che però ovviamente non è ancora stata rilasciata la skin della ginger renegade viene fuori con il suo backpack quindi due bastoncini canditi con la faccia dell'umino focacina tutto arrabbiato e vi ricordo che arriverà anche una variante natalizia di pesce secco non so assolutamente quando arriveranno queste skin ma sono davvero molto carine quindi pensateci bene prima di spendere i v bucks perché secondo me meritano tantissimo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è una immagine dedicata ai game awards di quest'anno che tra l'altro saranno disputati domani ovviamente parliamo di cerimonie non fisiche quindi non ci sarà come sempre tutto il pubblico e tutto ma dovrebbero essere disputati online virtualmente anche quest'anno fortnite è stato candidato per tre nomine ha stato fatto tre nomination la miglior community il miglior gioco su mobile e il miglior gioco ovviamente in assoluto ha già vinto un sacco di premi nei game awards precedenti le le manifestazioni la manifestazione sarà disponibile in diretta su twitch e vi invito a guardarla perché questo è un tweet ufficiale da parte di fortnite o meglio da parte di george kofky flake o mi caspita si chiama il capoccione di fortnite che dice se tu guarderai game awards il 10 sarebbe giovedì su twitch attento preparati perché prenderai un premio esclusivo per fortnite e per among us troverete ovviamente nel canale ufficiale immagino di fortnite la diretta quindi controllati di avere il vostro account linkato al vostro canale twitch guardatelo e buon premio a tutti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché una notizia per tutti quelli che mi hanno chiesto i punti esperienza come funzionano in questa season beh ragazzi ecco qua come funzionano dal livello 1 livello 2 40.000 dal 2 al 3 50.000 dal 3 al 4 ancora 50.000 dal 4 al 13 60.000 punti esperienza dal livello 13 al 20 70.000 dal 20 al 100 180.000 punti esperienza più o meno se non addirittura uguali alla season precedente e poi dal 100 al 220 si riscende a 50.000 e ogni livello aumentano di 250 fino ad arrivare a un massimo di 81.750 punti questo ragazzi vi sarà utile per capire per organizzarvi su come poter livellare nel miglior modo in questa season insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando il pollicione ragazzi schiacciatelo e lasciate un commentino aiutatemi a portare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su tschau